Benvenuti a tutti in questo nuovo video, ci troviamo nell'associazione Black & White. Noi siamo le ragazze della casa del bambino e ci troviamo una nuova recensione. Però prima di cominciare iscrivetevi, lasciate un like, lasciate un commento e alzate la campanellina che non fa mai male. Quando è uscito questo film? Nel 2015, genere, dramma e thriller, regista, Lenny Avanson, durata, un'ora e 58 minuti. La durata del film è di un minuto e un secondo. E poi? Quanto dura! Di cosa parla questo film? Questo film parla di una storia di un rapimento di una ragazza, che viene rapita da questo rapitore, che poi lei rimane nel principio da questo rapitore. E poi lei ha un video di nome Jack. Tutte e due rinchiuse in una stanza e l'obiettivo è riuscire a riuscire da questa stanza. E quali sono gli aspetti che ci sono finiti di questo film? La storia del film è trattata da una stranella, per natura di Attuli, il fatto che il film è scorrevole dopo l'inizio. e il tema ha trattato la violenza, la rapitura, il rapimento, il rapimento e la testa sulle donne e il sequestro di una persona. E quali sono gli aspetti che non ci sono mai piaciute? L'inizio del film lento L'inizio del film lento Ehm... 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 Grazie a tutti per averci seguito fino alla fine, se ci siete arrivati. Per chi siete arrivati, siete arrivati. Ehm... Ehm... Ciao! Ci...